Abbiamo provveduto come amministrazione a cercare di far liberare le aree, le aule detenute ancora dalla patto che come ben sappiamo è in liquidazione. Il liquidatore fortunatamente è di nocere inferiore e quindi ci ha promesso che nel più breve tempo possibile provvederà a liberare quelle stanze. Comunque noi saremo vigili anche perché alla luce di quelli che saranno gli interventi strutturali che dovranno essere fatti è chiaro che più locali saranno liberati e più locali potranno essere ripristinati e resi fruibili alla popolazione tutta. Quindi un'operazione che andrà a rendere più completa la fruizione stessa del castello magari incendivandone ulteriormente iniziative culturali che possano sempre più rendere appetibile il sito. Assolutamente sì. Da quello che si è detto in conferenza stampa avete visto che molteplici sono le iniziative anche a dei fondi ricevuti da parte della regione, quindi poi abbiamo non da ultimo le universiadi attraverso le quali vorremmo far sì che i nostri siti archeologici, le nostre bellezze locali vengano quanto più possibili pubblicizzate.